Sentirai i miei legali domani, alle 8. Buonanotte. Ha ragione, dovevo vendere. La chiave di tutto è la liquidità. Senza quella non puoi pisciare nell'arbalta coi cani grossi. Buonanotte, è stato un piacere. Tutta la guerra si basa sull'inganno. Sun Tzu, se il tuo nemico ti è superiore, eludilo. Se è irato, irritalo. Se è di forza pari, lotta. E se no, sparisci e riconsidera. Stai imparando. Sì? Il denaro non dorme mai. Ho appena fatto 800.000 dollari con loro su Hong Kong. Li hanno telegrafati a te. Giocaci. Sei stato bravo, ma devi continuare a far bene. T'ho insegnato le regole del gioco. Ora il corso è finito. Signor Gecko, io sono con lei al 110%. No, 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 no. Tu non hai capito. Io voglio essere stupito. Tu mi devi sbalordire informazioni, non importa dove o come le ottieni. Ottienile. Senti, mia moglie dice che dirigi su Darien. Ho un'informazione riservata per te. Quell'euro bello da rivista di moda maschile con cui lei esce. È in soldi, ma le regala solo sbadigli. Lei, lei gli sta dando il visto di uscita. Non vorrai perdere il tuo posto nella coda. Oh, Gesù. Vorrei che vedessi qui questa luce dell'alba. Non ho mai visto un dipinto che catturi la bellezza dell'oceano in questi momenti. Io ti farò ricco, Pat Fox. Sì, tanto ricco da permetterti una ragazza come Darien. Questo è il tuo servizio, speglia. Va al lavoro. Grazie a tutti.